Giovedì 5 agosto 2021, una data storica per il mondo del calcio. Il giovedì che verrà ricordato per sempre come il giorno in cui Messi e Barcellona si diranno addio. Ma come? Stava per rinnovare? Che cosa è successo? Ci sarà modo di parlare delle cause nei prossimi giorni. Intanto abbiamo stirato una lista per individuare quella che potrebbe essere la sua prossima destinazione. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. Vi portiamo contenuti nuovi ogni giorno. Se poi volete farci ancora più felici, lasciate un like a questo video e commentate qua sotto con il vostro pensiero a riguardo. Dove giocherà Messi la prossima stagione? Perché sì, l'avrete sentito, come comunicato dal club Blaugrana, le strade tra Leo Messi e Barcellona si divideranno a causa di ostacoli economici e strutturali, legati quindi al regolamento della Liga. Come detto, approfondiremo l'argomento più avanti, in un altro video. Nei mesi scorsi si è parlato della possibilità per Leo Messi di riattraversare l'Atlantico per andare a giocare nella massima divisione calcistica americana. L'MLS rappresenta un'ipotesi che pure lo stesso giocatore non ha mai escluso del tutto, anche perché è uno dei pochi campionati in cui giocano club che possono effettivamente permettersi di coprire i costi del suo ingaggio. Parliamo dunque dell'Inter-Miami, una squadra che ha già sicuramente stuzzicato la mente della Pulce, visto che non molto tempo fa, in ottica rinnovo con il Barcellona, si parlava addirittura di un accordo che lo avrebbe visto vestire la maglia Blaugrana per altre due stagioni per poi trasferirsi in Florida per altri due anni, prima di ritirarsi dal calcio giocato con la garanzia di andare a coprire un ruolo fuori dal campo ancora da definire per altri sei anni. Quindi un accordo che lo avrebbe visto orbitare nei club più potenti del mondo ancora per dieci anni. Una soluzione simile a quella che è stata considerata nel caso di un passaggio di Messi al City, che lo avrebbe visto protagonista di un passaggio a New York City una volta conclusa l'eventuale esperienza a Manchester. Insomma, Miami, che sembrava un'opzione per un futuro un po' più remoto, ma neanche tanto visto che si parlava di due anni, è ora diventata una destinazione che potrebbe concretizzarsi molto prima del previsto. Tra le motivazioni per cui Leo Messi avrebbe scelto l'MLS come il campionato in cui giocare le ultime partite della sua carriera, c'era stata anche la vicinanza a Sud America e quindi alla sua Argentina, paese in cui con ogni probabilità Leo Messi tornerà prima o poi. Insomma, ritornare vicino ai propri cari è un pensiero che passa pure per la mente di una leggenda del calcio e un'idea che accomuna la maggior parte dei professionisti, e non parlo solo del mondo del pallone, che hanno deciso di intraprendere una carriera lontano da casa. E se questo allora fosse il momento giusto per farlo, il momento di tornare alle origini, nel club dove tutto è cominciato? Se un ritorno al New Wales Old Boys fosse l'unica soluzione per far tornare il sorriso a Messi? Visto che non possiamo metterlo in discussione, deve essere davvero provato per la situazione che si è venuta a creare. Del resto l'accordo per il rinnovo c'era e le parti avevano tutte le motivazioni di continuare assieme questo rapporto che va avanti da 21 anni, il rapporto di una vita. Lo sappiamo, rappresenta la soluzione più romantica delle cinque che vi proponiamo in questo video. Ma in un momento così critico dal punto di vista mentale e nella vita del giocatore non possiamo escludere niente, neppure un ritorno immediato in patria mettendo da parte dunque tutte le situazioni economiche del caso. Leo Messi e Cristiano Ronaldo, leggende dei nostri tempi destinate a rimanere per sempre nella storia. Due talenti senza tempo che hanno dato vita ad una delle rivalità più grandi nella storia del calcio. Insomma, chi è il vero Goats? A tal proposito vi invito ad andare a guardare il video che abbiamo dedicato alla storia di questa corsa al titolo di migliore di tutti i tempi. Ma siamo onesti, in fondo ce lo siamo chiesti tutti almeno una volta, questi due elementi fenomenali possono coesistere, possono convivere all'interno di una stessa squadra. E soprattutto il mondo del calcio sarebbe in grado di sopportare queste eventualità? Ma non ne siamo sicurissime, non siamo neanche sicuri del fatto che la Juve possa sostenere un colpo di queste dimensioni dal punto di vista economico. Però già che siamo in balia degli eventi, al momento dare spazio all'immaginazione non ci costa davvero nulla. Immaginate la pulce CR7 in bianco-nero, ce la fate? Forse no. È una follia, allora che dite? Archiviamo subito questa possibilità? Sì dai, meglio. E allora alla stessa posizione inseriamo pure una possibile permanenza al Barcellona, anche se dopo la conferenza stampa di La Porta il destino sembra ormai segnato. Però ci sembra ancora tutto così surreale, allora anche se il presidente ha detto di non voler dare false speranze ai tifosi e agli ammiratori di Messi, proviamo a lasciare comunque aperto questo piccolo spiraglio, anche solo per un attimo. E passiamo alla prossima possibile destinazione del 6 volte pallone d'oro, una squadra a cui la pulce è già stata accostata lo scorso anno, quando si cominciavano ad intravedere le crepe nel rapporto tra il club e il giocatore. Crepe che sono venute a crearsi per diversi motivi, motivi di cui abbiamo già discusso diverse volte. I video se volete approfondire li trovate qua sopra nelle schede oppure ve li lascio qua sotto in descrizione. Il Manchester City ha appena portato a termine un acquisto che rientra nella top 5 dei trasferimenti più onerosi nella storia della Premier, Jack Grealish dalla Stonevilla per 100 milioni di sterline. Ma non sembrano intenzionati a fermarsi, in quanto lo sappiamo vogliono portare a Manchester un altro attaccante dal grosso calibro. Il nome di Harry Kane non è mai stato accostato ai Citizens in maniera così pesante come in queste ultime settimane. Il capitano della nazionale inglese quest'estate, dopo la pausa post-europeo, non si è ancora presentato agli allenamenti, un fatto che alimenta ancora di più le voci sul suo possibile trasferimento a Manchester. Ma a questo punto tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro. Gli Sky Blues continueranno a puntare il giocatore del Tottenham oppure approfitteranno della situazione che si è venuta a creare a Barcellona per riunire Leo Messi e Pep Guardiola. Una suggestione che non passa mai di moda, un'idea molto romantica ma allo stesso tempo molto concreta. Una possibilità che continuerà a rimanere calda fino a quando non verrà chiarita definitivamente la sorte del giocatore argentino. Anche perché è l'unico dei due club in Europa che può permettersi il suo ingaggio. Ed eccoci alla soluzione più quotata al momento dalla stampa internazionale. Il Paris Saint-Germain. Del resto lo sappiamo, è ormai un anno che Leonardo ha dato la sua disponibilità a sedersi al tavolo delle trattative qualora ci fosse stata una qualche apertura. Beh, dopo la conferenza stampa del presidente Blaugrana alla porta, l'apertura è più che mai chiara. Ha affermato che ci sono club pronti ad offrirgli un contratto e che non vuole dare false speranze al mondo di una possibile permanenza della pulce a Barcellona, anche se la sua volontà era quella di restare e si erano già accordati con un contratto per i prossimi cinque anni. Allora ci siamo, Lionel Messi sta partendo davvero. Il presidente ha chiaramente affermato che siamo arrivati al punto al giorno che divide l'era Messi dall'era post-Messi. Il post-Messi è ufficialmente iniziato, un momento triste ma essenziale per la salvaguarda dell'istituzione, del club, e il financial fair play ha giocato un ruolo decisivo. Certo rimangono le domande su come questo fair play non stia intaccando altri club come quello parigino, ma sono discorsi molto più grandi di noi, di me che in tutta onestà, in questo momento io non sono in grado di toccare. Quindi mi limito a riportare quelle che sono le voci delle ultime ore, ovvero che il Paris Saint-Germain è la squadra che ha le maggiori possibilità ad oggi di offrire un contratto alla pulce, un colpo che lo vedrebbe unirsi nuovamente a Nimar, nonostante la priorità del club al momento sia quella di rinnovare Mbappé e di regolare i suoi conti con le cessioni, per colmare un possibile deficit di 200 milioni. E come leggiamo sulla Gazzetta dello Sport, il colpo Messi potrebbe essere presentato con un piano che lo faccia figurare come un investimento dall'alto profitto in termini di immagine e di diritti commerciali. Un colpo che interessa da vicino pure Real Madrid, visto che con il possibile arrivo della pulce a Parigi, Mbappé potrebbe decidere di non procedere al rinnovo e i Blancos a quel punto proveranno l'accelerata per portare il francese a Madrid. Insomma, ci siamo? È davvero finita tra Messi e il Barcellona? Se sì, con la maglia di quale squadra lo vedremo giocare fra qualche settimana? Fateci sapere la vostra nei commenti, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto ed iscrivetevi al nostro canale se ancora non l'avete fatto. In attesa di novità, il vostro Davide vi saluta e vi auguro una buona giornata.